45.000 euro per una Fiat Topolino, batterie che si ricaricano in pochi minuti e una nuova vettura elettrica che costerà poco. Queste ed altre nuove news in questo nuovo episodio delle news elettrizzanti. Siamo alla fine di agosto e le ferie ormai sono già passate. Siamo all'ottavo episodio delle news elettrizzanti, quelle news che vi riporto mensilmente, quelle più interessanti che riguardano la mobilità. E oggi finalmente dopo uno stop di un paio di settimane, nonostante non sia stato un grande stop almeno per me, vi riporto almeno le novità più interessanti. Sì perché nonostante in agosto solitamente non ci sono tante grandi novità, invece quest'anno insomma ce ne sono state un bel po'. Però prima di iniziare vi consiglio vivamente di iscrivervi al canale perché tantissimi di voi guardano i video ma non è iscritta. È gratuito e non vi costa assolutamente nulla. Ma appunto iniziamo con la Fiat Topolino che costa 45.000 euro. E sì qualche giorno fa la carrozzeria Gravini che è una storica carrozzeria piemontese o meglio torinese ha svelato appunto la sua interpretazione della Fiat Topolino trasformandola in una spiaggina che vuole celebrare appunto la dolce vita. Insomma questo quadriciclo elettrico che abbiamo visto, abbiamo anche provato qualche settimana fa se vi ricordate, insomma lo conosciamo in tutte le salse ma appunto la storica carrozzeria ha voluto un po' interpretarla a modo suo. Insomma delle forme che veramente sono molto molto interessanti anche con delle soluzioni anche molto interessanti al suo interno come ad esempio insomma il sedile che oltre ad essere utilizzato come appunto sedile si può anche usufruire come piccolo cuscino da portare in spiaggia mentre si prende appunto il sole. Insomma una piccola Topolino che sicuramente si fa molto molto pagare. Per ora la carrozzeria ha dichiarato che ci saranno soltanto 10 Topolino quindi in futuro ancora è un prototipo perché le stanno ancora finendo di sviluppare e casomai chissà se in futuro riuscirò a vederla dal vivo e ovviamente ve la racconterò. Ma andiamo avanti e parliamo in questa puntata soprattutto di batterie perché nell'ultimo mese ci sono state delle novità molto molto interessanti. Prima di tutto Ninebolt che ha pubblicato insomma il suo test delle sue batterie con dei numeri che sono veramente molto interessanti. Prima di tutto ben 250 km di autonomia sono stati ricaricati in soli 5 minuti. Quindi dal 10% all'80% in realtà ci è voluto soltanto 4 minuti e 37 secondi con una potenza di ricarica di ben 350 kW ma più che altro più che la potenza la curva di ricarica che è stata molto molto alta rispetto alle tradizionali curve di ricarica che possiamo vedere sulle attuali vetture elettriche con un amperaggio di picco che è arrivato fino a 500 ampere. Veramente numeri notevolissimi con anche questa batteria che è stata veramente molto interessante nonostante purtroppo non abbiano dichiarato la capacità. Però hanno dichiarato che lo 0 fino a ricaricarla al 100% pensato poi ci hanno messo solo 6 minuti. Altre batterie che hanno fatto parlare sono quelle di Zikker che in 10 minuti sono riuscite a far ricaricare queste batterie dal 10 all'80%. Questa chimica che è utilizzata da Zikker è già ben nota nel settore automotive sto parlando appunto della litio ferro fosfato quindi una tecnologia che già conosciamo molto bene che è stata diciamo migliorata ulteriormente rispetto ad altre batterie che casomai arriveranno in futuro e che insomma sono riusciti a ricaricare in una stazione Zikker V3 da ben 600 kW di potenza per passare dal 10 all'80% in soli 10 minuti e mezzo quindi un risultato che supera anche le prestazioni della classica batteria nickel manganese cobalto. E infine parliamo di Samsung perché nonostante anche qua non abbiamo tantissime informazioni però hanno dichiarato che le loro batterie riescono a fornire fino a 1000 km di autonomia ed essere ricaricate in soli 9 minuti. Più precisamente dal 10 all'80% si può ricaricare in soli 9 minuti e questa tecnologia è stata pubblicata appunto alla fiera di Seoul per quanto riguarda le batterie. Queste batterie dovrebbero raggiungere una densità energetica di ben 500 wattora a chilo quindi veramente tanta tanta roba però insomma le batterie anche al giorno d'oggi come ben sappiamo molti stanno sviluppando anche e soprattutto le batterie allo stato solido quindi quelle batterie che invece di utilizzare un elettrolita liquido utilizzano un elettrolita solido appunto che permette soprattutto di avere una densità energetica decisamente superiore rispetto alle tuali batterie. Però tant'è come abbiamo visto anche negli ultimi 10 anni insomma lo sviluppo delle batterie è stato veramente così alto che nei prossimi 10 anni potremmo aspettarci veramente di tutto ma andiamo avanti con una vettura che a settembre o meglio entro la fine dell'anno scusate dovrebbe arrivare anche in Italia e sto parlando della Dongfeng Box una piccola vettura a 5 porte che dovrebbe confrontarsi proprio con la Fiat Grande Panda con la Citroen EC3 la Dongfeng Box in realtà in Cina viene chiamata Nammi 01 e in realtà in Europa è già venduta precisamente in Svizzera dove è disponibile in preordine a partire da 21.990 franchi svizzeri che sono circa 23.000 euro quindi una piccola vettura elettrica che a breve tra l'altro arriverà anche in Norvegia mercato dove ci sono più vetture elettriche in tutti gli altri paesi però insomma per quanto riguarda le specifiche siamo più o meno con un'altra vettura di cui parleremo dopo brevemente motore elettrico da 95 cavalli batteria LFP da 42,3 kWh con un'autonomia dichiarata VLTP di circa 310 km in realtà in Cina la Dongfeng Box o Nammi 01 chiamatela un po' come volete viene anche venduta con una batteria un pochino più piccola da 31,5 kWh ma in teoria quest'ultima non dovrebbe arrivare in Europa vi do qualche info generale perché parliamo di una vettura di poco più di 4 metri di lunghezza una larghezza di un metro e ottanta un'altezza di un metro e cinquanta e con un passo di due metri e sessanta tra l'altro l'interno è molto molto ben equipaggiato con un display da 12,8 pollici e anche un vano di carico posteriore da 326 litri se non ricordo male qualche litro in più rispetto alla Fiat Grande Panda o la Citroen EC3 insomma una piccola elettrica che ha delle linee che insomma non è che siano chissà che cosa però ad un prezzo che è estremamente interessante prezzo interessante anche perché insomma i vetture che costeranno sotto la soglia di 25.000 euro da settembre fino al settembre dell'anno prossimo più o meno arriveranno veramente in Europa e secondo me faranno veramente tanti bei numeri se ci saranno ovviamente un po' gli incentivi però staremo un po' a vedere vi parlo un po' di fotospia perché volevo mostrarvi qualche scatto della Kia EV4 che è stata avvistata appunto in Germania e a quanto pare Kia non dice addio alle berline e questo mi fa sinceramente molto molto piacere dovrebbe entrare in produzione a marzo 2025 e dovrebbe essere un poco più lunga della EV3 ma leggermente più piccola della EV5 insomma una vettura che poggerà sicuramente sulla piattaforma EGMP con un'architettura però a 400 volt e non a 800 volt questo molto probabilmente per mantenere un po' i costi bassi quindi dovremmo trovare una vettura che si confronterà molto probabilmente con Tesla Model 3 per intenderci e anche con qualche Volkswagen Kia a quanto pare vuole ancora le berline per fortuna vi parlo anche di qualche fotospia della Hyundai Ioniq 6 che è stata anch'essa avvistata qualche settimana fa in realtà sempre in Germania perché vabbè dall'esterno non si vede molto però ci dovrebbe essere con il nuovo facelift una novità molto interessante sotto al cofano tra virgolette perché si parla appunto di una piattaforma che sarà un pochino aggiornata ma soprattutto per quanto riguarda la batteria che da 77,4 kWh dovrebbe passare a 84 kWh permettendo così alla vettura nel ciclo WLTP di poter avere un'autonomia di ben 700 km vi faccio vedere e andiamo avanti con le ultime news insomma con questo render della Peugeot 208 che secondo Auto Express che è stato fatto dalla redazione di Auto Express dovrebbe essere così insomma le forme sono molto molto simili all'attuale 208 ma come in realtà sappiamo un po' già tutto sulle future vetture che presenterà Stellantis la nuova 208 come anche la OpenCourse ma anche come la molto probabilmente la futura Lancia Y e via dicendo insomma dovrebbe appoggiare sulla nuova piattaforma STLA Small piattaforma che ancora non è stata svelata ufficialmente perché se ricordate l'anno scorso è stata svelata sia la Medium che la Large o meglio soprattutto per quanto riguarda le prime informazioni tecniche della Small che dovrebbe più che altro essere quella più interessante per quella fascia di veicoli che dovrebbero costare tra virgolette poco perché quelli più economici sono destinati alla Smart Car però insomma questa piattaforma STLA Small ancora non abbiamo nessuna informazione e secondo me senza non c'è nessuna speculazione potrebbe essere che Stellantis nelle prossime settimane potrebbe dare qualche info in più di questa nuova piattaforma perché se ricordate la STLA Medium l'aveva avevano dichiarato a qualche info proprio in questo periodo estivo quindi insomma dovremo aspettarci forse tra qualche giorno le prime informazioni della STLA Small non lo so però insomma vedremo un po' e infine vi parlo di una vettura che forse qualcuno di voi avrà capito prima quando vi ho nominato la Dongfeng Box sto parlando della Leap Motor perché i cinesi di Stellantis sbarcano ufficialmente in Italia in realtà a settembre come vi ho detto anche forse qualche settimana fa sinceramente non mi ricordo però se non lo sapete insomma a settembre arriverà Leap Motor con due nuove vetture la Leap Motor T03 e la Leap Motor C10 brevemente la T03 è una piccola vettura che ha un motore elettrico da 95 cavalli e 158 Nm batteria da 41,3 kWh autonomia di circa 265 km velocità massima di 100 km e lo scatto 0-100 viene ricoperto in 5 secondi invece la SUV C10 poggia sulla nuova piattaforma Leap 3.0 equipaggiata in teoria con un'architettura a 800 volt batteria da 69,9 kWh sempre LFP e un'autonomia di circa 420 km ULTP la cosa interessante è soprattutto la T03 che dovrebbe partire appunto da poco meno di 20.000 euro si pensa appunto da 19.990 euro insomma piccola vettura che è stata avvistata proprio qualche giorno fa per la primissima volta sulle strade torinesi mentre credo stava svolgendo qualche test su strada sia la T03 che la C10 e insomma mancano pochi giorni prima che l'Ip Motors svelerà appunto arriveranno i primi modelli in concessionaria tra l'altro credo perché sarò presente al salone di Torino quindi se ci siete ci becchiamo là che abbiamo lo stand di automoto quindi chiacchieriamo un po' dovrebbe forse esserci stellanti sull'Ip Motor credo non lo so non mi ricordo però può essere anche che la espongano là fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti di queste ultime novità se mi sono scordato qualcosa pazienza scrivetemela qua sotto nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate più che altro sia dalla Leap Motor che della Dongfang Box iscrivetevi se ancora non lo avete fatto mi raccomando buona continuazione su YouTube e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video qua su YouTube